Una passeggiata per le vie del centro storico superiore di Ragusa è quella che si terrà domenica 11 febbraio a partire dalle ore 17 un'iniziativa simbolica volta in primis a lanciare un messaggio di solidarietà e sostegno alla titolare dell'agenzia Viaggi che ha subito l'attentato incendiario e poi per chiedere a gran voce una politica di riqualificazione del centro urbano del capoluogo Ebleu La decisione è stata assunta in sede di riunione da diverse associazioni di categoria che adesso vogliono estendere l'invito a tutta la comunità ragusana Il raduno è previsto in via Roma, da lì avrà inizio la passeggiata che si snoderà per le zone principali di questo quartiere della città Alla passeggiata hanno finora aderito la Cattedrale di San Giovanni Battista la CNA, l'ASCOM, col diretti, il Consorzio Antica Ibla, il Consorzio delle Isole Eblee l'Associazione Antiracket, l'Associazione Insieme in Città, l'Associazione Costa Eblea e Adiconsum Grazie a tutti! Grazie a tutti!